Per esempio nell'azienda di trasporto sta dicendo che tu gli puoi dare i soldi se è nel giorno del lockdown, ma se io riapro il giorno dopo che ho riaperto, ma come noi sappiamo è tutto bloccato, i treni di alta velocità, tanto per fare un esempio, camminano vuoti e quindi come negli altri paesi si è deciso di dare un risarcimento che per il momento non è autorizzato perché viene considerato fuori dalle regole europee. Un trattamento questo che è riservato alle imprese italiane, non alle imprese francesi e non alle imprese tedesche. Perché dico questo? Primo perché secondo me è una notizia, secondo perché ci deve far capire che se con i soldi nostri, con i debiti nostri non si riesce a far arrivare i soldi alle imprese, figuriamoci che cosa succederà con il debito comune europeo. E questo, ecco perché quando io sento dire non c'è fretta, dobbiamo arrivare a febbraio, io mi sento proprio di impazzire, noi dobbiamo lavorare, non dobbiamo fare un grande dibattito pubblico, politico nella maggioranza, quali sono le missioni politiche, cosa vogliamo fare? Vogliamo dare una grande mano al nord, così cominciano al nord, con l'industria 4.0, impresa 4.0, finanziamo l'innovazione, le piccole imprese che si unificano, non i montacarichi e i carrelli. E poi vogliamo ricordarci che dobbiamo riunire l'Italia, vogliamo rispettare l'innovazione europea. Aspetta, su questo punto poi adesso ci torniamo che mi pare un punto di rimente ed è anche una grande campagna del tuo giornale che tu stai facendo.